siamo con mattia risi il direttore generale del calcio padova 5 beh una grande soddisfazione vincere il derby di campionato già avevate vinto quello di coppa ma questa sera ancora di più è ancora più interessante perché oggi avevamo una defezione importante che era alberto che è il coordinatore della squadra e ho visto comunque dei ragazzi che comunque sono cresciuti moltissimo e sono riusciti a dare una avevano una certa personalità in campo ho visto una grande squadra in genere dai soliti crepaldi carraro ma quello che mi è piaciuto di più oggi è stato gallimberti che è venuto finalmente fuori anche con un bel gol di di orgoglio senti un petrarca quale va l'onore delle armi il petrarca per me è sempre stato il mio cuore abbiamo sempre lavorato insieme nel passato speravo di vedere paolo che è un mio carissimo amico per vedere con lui la partita e semmai commentarla anche se siamo di base dei tifosi spero di vederlo la prossima volta tanto il derby l'hai vinto te ma si è una partita la cosa interessante di questa partita a prescindere il derby è che abbiamo allungato dalla dalle ultime e quindi ci dà dei margini operativi per il futuro insomma però il campionato abbastanza lungo insomma siamo solamente alla sesta partita all'ottava ecco avete allungato dalla zona bassa però avete accorciato dalla zona alta questo è importante questo significa che per il padua potrebbe cambiare il campionato adesso va cambiare il campionato ricordiamoci che c'è un'apertura importante di finestre dove ci saranno trasferimenti ipotizzo che le altre squadre si rafforzeranno noi stiamo guardando a dei nuovi giocatori che possono entrare in rosa anche a causa dell'uscita del nostro capitano Giorgi vedremo un attimino ci sono un paio di nomi quindi le promesse sono di rinforzare il padua per puntare in alto le promesse sono di rinforzare la squadra puntare in alto lo sanno soltanto i nostri giocatori non sono in grado di pensare al futuro di questa squadra se non mettere tutta la responsabilità e l'impegno e richiedere l'impegno la parte dei nostri ragazzi ecco però ci credono i tifosi che ogni sera vi seguono qui a pallagozzano questa sera poi è stata una festa oggi è stata una festa eravamo oltre 600 questa sera è stata un cosa interessante non vedo l'ora di vedere la prossima che sarà sa venerdì prossimo in casa spero di vederli ancora così accaniti perché lo sport è bello oltre che a farlo e anche a vederlo e goderselo dobbiamo far sì che il pallagozzano non basti più per la gente chiederemo al pallagozzano di ampliare le tribune noi non vogliamo uscire da qui